facciamola andiamo al nostro cionco e let's go allora puliamo chonker distruggiamo le macchine prendiamo i punti esperienza vediamo come va ok nice ok nice sembra che il fucile da usare il martello bisogna masterare il martello raga fammi fare l'ultimo aggiornamento di questo fucile e poi andiamo ma niente a capa leggendario lo prendo adesso Mitraglia leggendo e lo d'avete già buono raga si sparano dietro facciamo una pulizia rapida La capa se lo usi one one tap e god proviamo Dovrei aver fatto l'evoluzione Easy Ed è finita la quinta sfida settimanale perfetto ma prima di andare avanti con il video ragazzi voglio presentarvi il nuovissimo gusto di level up la community Edition è un gusto scelto proprio da voi dai consumatori di level up e dalla community di che cosa sa sa di zucchero filato è davvero molto molto particolare anzi voglio subito dirvi che il 26 settembre alle ore 18 Avremo la possibilità di acquistarlo nel negozio e c'è anche un grande ritorno Il gusto error 404 uno dei tre gusti rilasciati per la black week dell'anno scorso un mix di fico d'india e ribes nero Io l'ho provato da loro direttamente in germania nella sede di level up ed è davvero Fantastico ma andiamo ad assaggiare la community edition Mezzo litro d'acqua Un misurino di prodotto Dai che già dai che già lo sapete Dai che lo sapete Non ve lo dico neanche ve lo dico Chiudiamo Shake 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 Ed eccolo qua ragazzi Il nostro level up è pronto per essere Gustato E' palesemente zucchero filato Buono Questo Per chi ama i sapori un po' più dolci E' sicuramente perfetto Non è invadente E' bilanciato Si lascia bere in una maniera Davvero gradevole E insomma Lo potete trovare Nello store Dal 26 settembre Con la nuovissima promo Due per uno La migliore Mi raccomando Level up Fatto dai gamer Per i gamer Non saprei rispondere alla tua domanda caro Speriamo sto leva leggendario Easy Che è il simpaticone che mi stai sparando? No no ma vieni qui Lo fai spari e scappi Eh la Porco Giuda Porco Giuda Se lo giochi 1-up La K non è male però eh Molto particolare Il Il loadout di armi Una season che Secondo me Sembra ancora essere bilanciata Mi piacere No aspetta un attimo Gli ho fatto 136 con leva Gli ho fatto 136 con leva Si mi vado a scudare Gli ho fatto patetine Sa sottolineatura Vo sottolineatura Un piccolo contributo Su derda Questa roba qua Del cromo È vergognosamente up Ma apro il cavo ragazzi Mi fullo Mi fullo Mi fullo Volevo farlo qua dentro La prima La prima cosa che mi viene in mente Pensando a questa season È Bilanciata No però non puoi avere Una roba del genere Dentro Dentro un loot Ragazzi Guarda Eh no Ok Con calma Ora quell'altro che torna Il c***o L'ho già smontato L'avevo Porca miseria Oh mio 5.000 patatine Per la win Oh Xuder Che cavolo fai Gioca piano Fatta un attimo però Ciao Uno là sopra Volerà E infatti Orco c***o Se riesco a tagliarlo Da qua Sarebbe god Chill Ma raga Ma di che partite Stiamo parlando Raga Eh Positioning Non è male Ma abbiamo 5.000 patatine Per la win Un momento Fammi concentrare No È un macello Non muore nessuno Non so dove sono tutti Eh la chiuda Non so dove sono tutti Let's go Eeezy Beee!